A questo MAD Expo esponiamo per quanto riguarda soprattutto prodotti del trattamento per tutte le superfici. In particolar modo i plus sono comunque la praticità e rapportati comunque alla professionalità del prodotto applicabili da chiunque. In particolar modo vi presento pulisci terrazzi per la pulizia delle superfici esterne, per lo smog, per la muffa e lo sporco e tratta terrazza in abbinata nella nuova confezione più concentrato con la nuova formula, molto pratico ed economico. I prodotti li possiamo trovare presso le rivendite specializzate, quindi ferramenta, colorifici, materiali edili. Per sapere dov'è il punto vendita più vicino possiamo contattare il numero verde 868 91 50.